Può l'arte eliminare il concetto di tempo e spazio? In una sala gigante di epoca classica si è riunita per la scuola di Atene di Raffaello una folla di intellettuali del passato e artisti del suo presente. Al centro Platone e Aristotele, chiacchiano della vita. Platone è un ritratto di Leonardo e indica il cielo, Aristotele la terra. La figura dei capelli neri sui gradini è un ritratto di Michelangelo, come Eraclito, il filosofo greco che piange per la follia umana. In una veste verde c'è Socrate e di fronte Pitagora. Dietro in un turbante bianco il filosofo arabo Averroè e in una veste blu Epicuro. Seduto sui gradini mezzo nudo diogene, lui ha rifiutato il lusso. E un gruppo di figure risolve un problema geometrico con un uomo che sembra bramante. Così l'unica figura che guarda direttamente fuori dall'immagine non può che essere Raffaello. Una conversazione fra artisti vestiti da filosofi in un'opera che fa da macchina del tempo perché altrimenti mai nella storia sarebbe stata possibile.